Buongiorno, un cordiale saluto dalla redazione di ETV, Polizia Stradale, Federazione Motociclistica e Fondazione ANIA insieme per la sicurezza stradale dei giovanissimi alle prese con la prova sulle due ruote. L'ANIA Campus oggi ha accolto gli studenti in piazza 8 Agosto per prove di teoria e pratica. Andiamo a vedere come è andata nel servizio di Simona Iannesa. Ha fatto tappa anche sotto le due torri l'iniziativa sulla sicurezza stradale messa in campo dalla Fondazione ANIA insieme alla Polizia di Stato e alla Federazione Italiana Motociclistica. Sono stati un centinaio gli studenti delle scuole superiori che stamattina si sono dati appuntamento al campus allestito in piazza 8 Agosto. Prima i ragazzi hanno affrontato una parte teorica di guida sicura per le due ruote con l'aiuto di formatori stradali, poi grazie al circuito gli studenti hanno avuto anche la possibilità di mettersi alla guida, ovviamente tutti con la giusta attrezzatura e con caschi rigorosamente omologati. Com'è andata questa giornata? Bene, ho superato il mio terrore per le moto. Era la prima volta che salivi? Sì, era la primissima. Che cosa hai imparato? A guidare e non avere il terrore di schiantarmi con la moto. Un grande risultato. Tu che cosa hai imparato? Io, siccome sono abituato a guidare la macchina, che sto facendo la patente, più che altro a curvare. Avevo dei problemi, però una volta imparato a curvare il resto è abbastanza semplice. Hai trovato utile questa mattinata? Sì, ho trovato utile. Che cosa hai imparato? A guardare avanti. Quali sono gli errori che commettono questi ragazzi? Beh, essenzialmente abbiamo visto addirittura difficoltà proprio di equilibrio, insomma. Quindi capire come funziona il mezzo, capire il giusto momento della frenata, come utilizzare il freno e soprattutto anche spesso come allacciarsi il casco. Alle volte il casco è mal allacciato e quindi è poco utile. Una cosa sulla quale sicuramente in questa circostanza viene ben definita è sicuramente l'equipaggiamento che deve essere a norma. Il casco soprattutto. Quindi al di là di quello che può essere il casco che piace o che non piace, vedere che sia sicuramente in regola con le norme comunitarie. E che sia idoneo. Perché ci deve proteggere nel momento in cui può capitare che si cada semplicemente senza fare insomma grandi incidenti. Veniamo a... Veniamo a...